Come ti senti per l'EU e come ti senti per il governo di essere l'EU critica? Il liceo è infatti specializzato nelle materie relative all'Europa ed ogni anno viene scelto un paese ed una città per una full immersion di una settimana. La classe resterà a Napoli fino a venerdì ed oggi è affrontato con il sindaco temi come il sistema elettorale, gli scenari politici napoletani, italiani ed europei, l'immigrazione, la sicurezza ed il boom turistico-culturale di Napoli, ricevendo anche come ricordo il crest ufficiale della città. Grazie.